buona giornata amici e bentrovati ci rischiamo di nuovo alla rassegna stampa di fano tv tre giorni di vacanza senza rassegna stampa un pochino magari ci hanno fatto così sollevare dai problemi quotidiani che vengono evidenziati ovviamente sui giornali ma oggi torniamo per conoscere le notizie del giorno oggi è mercoledì 3 maggio 2023 e oggi si festeggiano i santi filippo e giacomo filippo e giacomo sono degli apostoli san filippo nacque a bezzaida seguì gesù mentre tornava dal giordano predicò in sizia in frigia fu crucifisso anche lui all'età di 84 anni fu sepolto agli erapolis l'odierna pamuccale in turchia poi le sue reliquie furono trasportate a roma san giacomo fu invece un parente della madre di gesù maria fu voscovo di gerusalemme dove fondò una comunità di cristiani governò la sua chiesa per 30 anni morì anziano a 96 anni e ucciso da un colpo di mazza dopo che i suoi avversari lo avevano gettato dalla terrazza del tempio ma nella caduta non era morto fu ucciso subito dopo questi un po due apostoli che seguirono gesù dei dodici che fanno parte appunto della schiera dei suoi primi discepoli vediamo le previsioni del tempo una residua instabilità dopo il maltempo che ha imperversato durante il primo maggio starà fino al mattino con piogge rovesci sparsi un po su tutta la regione migliora dal pomeriggio con ultimi deboli fenomeni e un po su tutta la regione il tempo va verso il miglioramento i venti sono tesi ispireranno sulle coste da nord ovest mentre nell'interno da est e nord est le temperature si aggirano tra i 15 e 17 gradi si è molto alzata la minima ma la massima si mantiene ad un livello diciamo così ancora medio ovviamente ancora non è estate ma 17 18 gradi e la temperatura primaverile ci ho detto diamo un'occhiata subito ai giornali partendo oggi dal resto del carlino e vediamo quello che accade in merito al via all'elettrodotto scusate adriatic link quell'elettrodotto che deve essere realizzato da parte di terna partendo dalla centrale elettrica di carrara poi dovrà raggiungere il mare e sotto il mare apri approdare di nuovo in terra in avruzzo vediamo che collegamento c'è tra questo elettrodotto e la nuova federiciana lo vediamo qui nel titolo nuova federiciana mancano i soldi la nuova federiciana sarebbe il progetto che l'architetto cucinella ha redato appunto per l'ampliamento della biblioteca del 1600 che è a fano una delle più belle biblioteche che esistono nelle marche ebbene la biblioteca tradizionale è stata realizzata nel diciassettesimo secolo l'aggiunta è un'aggiunta veramente di architettura modernissima molto molto bella e qua la vediamo nella fotografia pubblicata dal resto del carlino in una visione notturna questa è la parte aggiuntiva che verrà appunto realizzata nella parte retrostante dell'odierna biblioteca che è questa parte qua al buio ebbene è un progetto che costa molto costa oltre 7 8 9 milioni di euro e il comune al momento non è che ha tanti ne ha tanti di soldi ebbene è riuscito a raggranellare 2 milioni e 500 mila dal pnr qualcosa ovviamente metterà nel suo bilancio ma occorre racimolare anche altri soldi e qual è l'intento della giunta fanese è quella di utilizzare parte dell'integrazione che Terna farà per compensare appunto i disagi causati dalla realizzazione del nuovo elettrodotto anche per realizzare l'ampliamento della biblioteca federiciana e su questo non sono affatto d'accordo i residenti di Carrara i quali vorrebbero che tutto la montare dei soldi che metterà a disposizione Terna fossero impiegati nella loro frazione vediamo dunque il titolo nuova federiciana mancano i soldi SOS a Terna ma Carrara insorge per il progetto della biblioteca c'è un buco di 7 milioni da coprire l'ipotesi usare parte delle compensazioni per l'elettrodotto ebbene insomma qui c'è problema infatti i cittadini di Carrara sono sul piede di guerra perché vogliono che prima di tutto venga privilegiato il loro quartiere che più di ogni altro ha subito e sta subendo ancora oggi tutti i disagi creati prima dalla centrale e poi in futuro da quello che sarà appunto l'elettrodotto anche se questo viene realizzato in via sotterranea ma ci sono molte notizie importanti sui giornali di oggi e vediamo subito un'altra notizia che farà che desta ovviamente molta molta attenzione è pubblicata qui in questo trafiletto un trafiletto perché la notizia è giunta nelle sedi delle redazioni locali tardi ieri sera tardi oltre le ore 21 vescovo oggi l'annuncio ebbene sì oggi in cattedrale a Fano alle 11 e 45 il vescovo Armando Trasarti comunicherà il nome del suo successore del nuovo vescovo di Fano per questo ha radunato tutto il clero i presbiteri i sacerdoti insomma gli operatori della diocesi tutti tutto il popolo di dio insomma per comunicare questa importante notizia e probabilmente affermano i giornali il nuovo presuole proverrà dalla diocesi di Fermo come del resto è venuto è giunto a Fano il vescovo Armando Trasarti e vediamo anche l'articolo che pubblica il Corriere Adriatico eccolo qua sulla pagina sulla seconda pagina dedicata a Fano Trasarti saluta oggi il nome del nuovo vescovo ed è appunto la diocesi di Fermo da cui viene anche Monsignor Salvucci che è l'arcivescovo di Pesaro insomma sembra che la diocesi di Fermo sia un po' la fucina dei vescovi del nostro territorio comunque è una attesa molto fremente insomma molto sensibile quella che proviene da questo annuncio perché il vescovo Armando Trasarti devo dire è stato un grande vescovo per Fano un vescovo sia dal punto di vista pastorale per le sue predicazioni per quanto ha fatto anche per aiutare i poveri per sensibilizzare appunto la popolazione ma è stato anche un grande amministratore della chiesa ha fondato nuove chiese, ha ristrutturato quelle esistenti, ha ristrutturato tutto l'ex centro pastorale attuale l'ex seminario di Via Roma insomma è stato veramente un grande vescovo che ha operato per il bene della città di Fano e quando se ne andrà se ne andrà con tanta tanta simpatia è probabilmente un po' di rammarico per i fedeli che lascia nella nostra città l'altra importante notizia riguarda invece una riunione che c'è stata ieri a Fano da parte di alcuni sindaci sono intervenuti a Fano il sindaco di Gubbio, il sindaco di Cagli, il sindaco di Cantiano e ovviamente l'ospitante il sindaco di Fano Massimo Seri che cosa sono venuti a fare? Sono venuti a costituire un tavolo di lavoro per così sensibilizzare per cercare di costituire un presidio per quanto riguarda i lavori che si stanno facendo alla Contessa la chiusura di questa strada, la chiusura di questa arteria reca molti molti danni sia le aziende locale un po' che quelle di tutto il comprensorio danni per quanto riguarda le comunicazioni, danni per quanto riguarda l'affosso turistico insomma danni per quanto riguarda qualsiasi spostamento si da e verso l'Umbria ma anche verso Roma perché la Contessa è l'unica strada agevole che possa collegare appunto il nostro territorio con la lunga superstrada che da Cesena arriva fino a Terni e poi attraverso Orte giunge a Roma Contessa la supplica dei sindaci, cantiere chiuso entro Natale è quello che vogliono e appunto i sindaci del territorio i rappresentanti dei territori coinvolti dai disagi hanno chiesto soprattutto il rispetto dei tempi la messa in sicurezza è necessaria ma la nostra economia è in pericolo sì sono lavori necessari quelli soprattutto per quanto riguarda un ponte un viadotto della Contessa che è in condizioni veramente molto degradate e quindi i lavori devono essere fatti ma devono essere fatti con grande celerità il cantiere deve essere chiuso entro Natale hanno chiesto i sindaci e poi sul piatto ci hanno messo anche gli indennizi per le aziende che subiranno certamente dei grandi danni da questa lunga interruzione altro articolo importante perché ieri nella sala della Concordia del Comune di Fano si è sottoscritto un accordo, un protocollo d'intesa tra Comune e rappresentanti sindacali per quanto riguarda tutta l'attività dell'amministrazione comunale nidi e materne benefici per 300 famiglie in più il Comune ha deciso di alzare la soglia Isee per l'esonero portandola a 5.800 euro dai 3.000 attuali ecco tutte le misure sociali d'intesa con i sindacati è un documento corposo quello che hanno sottoscritto i sindacati e i rappresentanti dell'amministrazione comunale sindaco in testa nella giornata di ieri si parla di riduzione della Tari il Consiglio Comunale ultimamente ha approvato la Tari Etica nei confronti di quelle associazioni che operano nel sostegno delle famiglie più fragili operando nel settore degli aiuti alimentari si è parlato poi di tariffe per quanto riguarda i servizi educativi elevando appunto la soglia delle esenzioni per quanto riguarda i nidi, le mense, il trasporto scolastico e si è parlato anche del disagio abitativo disagio abitativo per cui l'assessorato al welfare ha cercato di così mettersi anche soldi dell'amministrazione comunale oltre quelli della regione spingendo appunto quest'ultima, la regione, ad aumentare i soldi e quindi il Comune di Fano ha avuto più gratificazioni in ambito regionale rispetto agli altri comuni quindi importanti decisioni che sono state assunte per aiutare le famiglie più fragili giriamo la pagina e passiamo nell'entroterra a terre roveresche a terre roveresche c'è ancora tanta, tanta agitazione per quanto riguarda il biodigestore ebbene il biodigestore di barchi, ricorso del Comitato dopo il Comune di terre roveresche anche i cittadini si muovono e fanno le pulci al bilancio di Ferronia troppe cose non tornano che cosa è successo? è successo che i cittadini hanno posto a paragone i bilanci di Ferronia e quelli di Green Factory Ferronia dovrebbe realizzare il biodigestore di barchi mentre Green Factory è autorizzata per l'impianto di Talacchio ebbene c'è molta differenza tra i due bilanci per esempio Ferronia ha una dotazione patrimoniale di 10.000 euro e investimenti per 2.000 quindi una cifra piuttosto contenuta Green Factory invece ha una dotazione finanziaria di circa 3,6 milioni di investimenti per acquisire un terreno che vale 1.200.000 insomma qua si parla di qualche migliaia di euro qua invece si parla di milioni e secondo appunto i cittadini che si sono riuniti nel Comitato i conti non tornerebbero passiamo ad Urbino Urbino è la città del libro riparte da Piersanti l'edizione di quest'anno di questo evento è stata contrassegnata dal titolo nei luoghi persi ed è omaggia il poeta e scrittore Urbinate Piersanti che sarà ospite sabato mattina si apre dunque questo venerdì tra pochi giorni alle 16.30 fino a domenica sera la nona edizione del festival Urbino e le città del libro nei luoghi persi e il titolo di quest'anno un chiaro omaggio al poeta e scrittore Urbinate Umberto Piersanti vediamo anche quello che accade a Cagli a Cagli c'è maretta turbolenza per quanto riguarda le decisioni assunte dall'amministrazione comunale per i parcheggi Cagli i parcheggi della discordia la nuova politica degli stalli in centro fa infuriare molti cittadini che annunciano un comitato del no ebbene sembra che l'amministrazione comunale abbia preso dei provvedimenti che non ne va bene uno insomma ha agito alla rovescio di quello che i cittadini magari si aspettavano vengono realizzati stalli blu unici che evidentemente non verranno mai occupati in maniera corretta dicono i cittadini sono stati realizzati stalli gialli in prossimità di incroci che poi sono vietati dal codice della strada o di entrate private o passi carrabili rendendo addirittura difficoltoso l'accesso a questi ultimi e poi ci sono gli stalli bianchi in zone in cui gli stalli non dovrebbero proprio esserci vedi Viale della Vittoria all'altezza del Torione addirittura stalli blu a spina di pesce che mettono in pericolo i pedoni come davanti alle poste insomma veramente non c'è un colore che vada bene tra le scelte fatte dall'amministrazione comunale vediamo anche un altro articolo che riguarda sempre Cagli PD sulla Pedemontana no al taglio c'è stata un'assemblea un'assemblea convocata oggi pomeriggio alle ore 18 nel salone dell'ex pritura del palazzo comunale un'assemblea aperta sulla Pedemontana nel tratto Sassoferrato Cagli l'incontro è stato indetto dalla Federazione Provinciale di Pesaro Urbino del Partito Democratico con il coordinamento della zona del Catria e del Nerone l'introduzione sarà fatta dalla segretaria provinciale Rosetta Fulvi è un incontro che verterà sul tema della esclusione del tratto Sassoferrato Serra Frontone Cagli dal piano regionale un altro importante tema questo della viabilità dell'entroterra che deve essere invece trattato con la massima attenzione qualche notizia di Pesaro addirittura il resto del Carlino dedica due pagine al raduno che è stato effettuato contro il Biolab la marcia dei 6.000 da Pesaro come Wuhan Wuhan la località della Cina in cui potrebbe essere fuggito il virus che ha provocato la pandemia da Covid 19 ebbene da Pesaro alla manipolazione dei virus Maxi Raduno per dire no e sono venuti da tutte le regioni d'Italia e anche dall'estero i manifestanti per dire no a questa struttura che è stata così preannunciata nella zona periferica di Pesaro ebbene contro la manifestazione comunque ha dichiarato le sue ragioni il sindaco Matteo Ricci vediamo qua anche una intervista rilasciata a Benedetta Iacomucci pattuglie sotto casa di Ricci complottisti di importazione impossibili ragionarci infatti secondo il sindaco Ricci le tesi propugnate dai protestatari sarebbero tesi ideologiche non suffragate da quello che dovrebbe realizzarsi a Pesaro e poi vediamo invece che le festività del primo maggio sono state un'occasione per una banda di ladri di svaliggiare parecchi appartamenti a Pesaro primo maggio lavorano solo i ladri i ladri hanno lavorato svaliggiati quattro appartamenti ripoliti una casa a Ponte Valle e una a Borgo Massano rubati gioielli e valori per 50.000 euro un bottino veramente ingente ebbene hanno rubato lunedì primo maggio intorno alle ore 15 in una casa a Ponte Valle poco distante dal Circolo Arci ebbene i proprietari erano tutti fuori a festeggiare con gli amici appunto la festività i ladri sono entrati hanno aperto una cassaforte con un frullino e hanno rapinato oro e gioielli di notevole valore i ladri hanno poi operato anche in altri appartamenti anche qui hanno cercato gioielli lasciano perdere i computer e i televisori e rubano preziosi e anche due orologi di valore tutto avviene in una quarantina di minuti e poi e poi anche altri furti sono stati compiuti nella stessa giornata in un altro appartamento a Borgo Massano sprovvisto dall'impianto di allarme insomma veramente una un ride veramente che ha fruttato parecchi soldi e quindi parecchi danni ai proprietari di case passiamo al Corriere Adriatico vediamo che l'apertura è dedicata all'incontro dei sindaci per quanto riguarda la chiusura della contessa le lanciamo l'area Gubbio Fano che al momento è in sottordine rispetto a flusso turistico che poi grazie a Valfabbrica c'è un collegamento diretto tra Perugia e Ancona quindi i turisti più che venire nel nord delle marche privilegiano il centro o il sud della regione e poi abbiamo ancora commenti per quanto riguarda la variante di Centinarola insorge il circolo Gramsci che dà ragione in modo particolare a quanto obiettato a quanto detto dalla capogruppo del PD in consiglio comunale Giacomoni dice com'è non dare ragione alla Giacomoni per quanto riguarda quello che è stato orchestrato dalla Giunta i nuovi centri commerciali si autorizzano quando una città vive un momento di espansione e non i momenti come gli attuali caratterizzati dalla diminuzione della popolazione e dalla inflazione che arriva siano a punte come quelle del 7% e poi anche obietta il circolo Gramsci per quanto riguarda le previsioni del piano regolatore generale è un PRG che non convince è stato detto sia per l'eseguità dei tagli deredificabili rispetto al piano a Guzzi sia per una mancanza di sensibilità sociale che oggi deve rappresentare il primo parametro per orchestrare il sviluppo della città nei prossimi anni ebbene poi abbiamo anche un commento politico di Davide Rossi Davide Rossi è stato assessore alla cultura della Giunta a Guzzi è stato poi assessore in provincia di Pesaro Urbino ed ora interviene evidenziando dal punto di vista politico le contraddizioni che esistono all'interno del partito democratico quando un capogruppo di una forza politica contesta il suo assessore insomma di qui ci sono le cose che non vanno o l'uno si deve dimettere o si deve dimettere l'altro questa è un po' la tesi di Rossi che evidenzia il polverone suscitato all'interno del partito dalle dichiarazioni contrastanti la seconda pagina del Corriere Adriatico è dedicata da una parte all'incontro dei sindaci per la contessa scusate da una parte dell'incontro del comune con i sindacati per quanto riguarda la programmazione e l'utilizzo del bilancio comunale di cui abbiamo già parlato e poi l'articolo del vescovo Trasarti saluta oggi il nome del nuovo vescovo passiamo alla Val Metauro dove l'articolo di apertura è dedicata alla polemica dei parcheggi a Cagli e poi a Fossombrone dove con la presenza del prefetto c'è stata la consegna di un bellissimo quadro di Bucci ospite speciale della quadreria Cesarini il prefetto Emanuela Saveria Greco in visita ufficiale al comune evento che è culminato con la consegna da parte della professoressa Mariella Agnani dell'Università di Urbino del dipinto di Anselmo Bucci intitolato L'autunno dopo il restauro quindi un bellissimo dipinto eccolo qua riportato alla bellezza originaria a Frontone a Frontone è stata riaperta la provinciale Tenetra ossigeno per le attività sul Catria ora si può risalire su questo monte e godere il paesaggio in tutto il suo splendore primaverile avviati i lavori sul versante di Cantiano per la strada che collega Chiaserna è arrivata dunque la bella stagione con un'ottima notizia sul fronte della viabilità almeno una buona su fronte della viabilità le altre non sono affatto buone ho visto appunto quello che è accaduto con la chiusura della contessa e poi invece abbiamo un articolo di cronaca a fondo pagina scappa all'estero con il figlio finisce a processo si tratta di una romena che per la seconda volta ha lasciato il suo compagno qui nella provincia di Pesaro Urbino e se ne è andata all'estero con il figlio ora è stata rintracciata ed è finita processo processo che si è aperto ieri lei è stata accusata di di una di un stata accusata di sottrazione di minore un'accusa che comporta un reato punito con la reclusione da uno a quattro anni però insomma il processo è stato rinviato quindi la sentenza ancora non è stata amessa se ne riparlerà il prossimo ottobre vediamo anche Senigallia a Senigallia scade l'anniversario dell'alluvione del 2014 allerta meteo ai locali che si rialzano la rinascita dopo le sciegure sono delle attività commerciali che vengono riattivate novità al piano terra di Palazzo Gherardi Brunelli verso la riapertura ebbene sotto i portici ercolani si è inaugurato una bottiglia di calzature e poi rinasce anche una pizzeria buon segno per la rinascita economica della città e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa e come sempre vi do appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera con Occhio alla Notizia il Tg di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto